sono sfinito ragazzi sono sfinito io dico solo voglio esordire questo contenuto così non si può rischiare di prendere gol al novantesimo dopo aver dominato la partita in questo modo non si può assolutamente e vi dico anche la verità non mi aspettavo dopo aver subito un gol il più gol più rapido di sempre nella storia degli europei una reazione ve devo dire anche questo perché non me l'aspettavo una reazione del genere da parte della nostra nazionale italiana quindi è abbastanza ambiguo il discorso che sto per farvi però per quello che abbiamo visto all'interno di tutta la partita ragazzi stavamo rischiando seriamente bentornati e veri trovati ve lo dico immediatamente manca uno sputacchio ai 575.000 iscritti se non siete ancora iscritti se non mi seguite fatelo perché se entro un'oretta ci arriviamo raggiungiamo l'obiettivo 575.000 iscritti vi pubblico immediatamente stasera stessa la live reaction dipende tutto da voi lasciate like se volete anche in merito il parere del buon fan fate quello che vi pare detto questo sì ovviamente sono felicissimo era importantissimo ragazzi impattare così l'esordio dell'europeo questo doveva essere abbiamo avuto la fortuna di affrontare la squadra tra virgolette se non me ne vogliate è più scarsa del girone sempre tra virgolette massimo rispetto per l'Albania l'ho sempre reputata una nazionale all'altezza stasera forse un po' meno ma adesso ci arriviamo e non non potevamo fare altro come dico sempre io dal punto di vista psicologico ragazzi impattare positivamente poi ti può dare quella spinta per le partite successive è la cosa più importante in assoluto detto questo sono stato felicissimo quando ho visto le formazioni ufficiali non tanto per gli interpreti per chi ha scelto quanto per il modulo perché ragazzi secondo me Spalletti è questo Spalletti secondo me è difesa a 4 e poi lo abbiamo dimostrato cioè rischiava di andare a snapback io comprendo anche il ragionamento che tanti di voi mi facevano ne avete fatto ragionare ed effettivamente è vero forse abbiamo una nazionale più propensa ad una difesa a 3 però non dobbiamo snaturare quello che è il nostro allenatore quelli che sono i suoi dettami tattici e stasera credo che lo abbiamo visto ragazzi ha tergiversato Spalletti perché poi nelle amichevoli e via dicendo già qualche mese fa appena arrivato aveva sperimentato più volte la difesa a 3 e ora non so se poi alle prossime cambierà un corso d'opera ma io continuo a pensare perché poi guardando la formazione iniziale e poi vedendo tranne i primi 20 secondi quello che è successo in campo secondo me il dettame tattico più giusto è questo ed è anche stato giustissimo ragazzi dare fiducia a Calafiori e a Bastoni Calafiori ha fatto una partita della Madonna non puoi rinunciare ad un calciatore del genere cioè si sta confermando sui livelli del Bologna di Diacomotta calciatore capisco perché chiedono 50 milioni d'euro anche se secondo me non li vale però comunque regà ma veramente un livello clamoroso con le dovute proporzioni del caso ribadisco massimo rispetto per l'Albania ma non è la Spagna non è la Germania non è la Francia no? quindi poi magari i test più probanti saranno nelle prossime partite guarda caso abbiamo proprio la Spagna abbiamo dimostrato di essere una squadra che sa anche reagire perché tu me prendi dopo 20 secondi io ragazzi le bestemmie che ho tirato poi lo vedrete nella live reaction io vi giuro non ci ho avuto il coraggio di andare a riguardare esattamente quello che è successo e non ci ho manco il coraggio di riguardarlo io mi ricordo una situazione di non mi ricordo se è un passaggio sbagliato di Di Marco o una rimessa laterale so solo che c'ha responsabilità Di Marco sta palla che va in mezzo la donna rumma ragazzi dice no poteva fare di più ti arriva non ce lo devi mettere nella situazione di poter tirare lì davanti al portiere t'ha purgato io non do colpe a donna rumma non capisco chi dà le colpe cioè la colpa in quel caso è di Di Marco quando ho visto così quando ho visto che siamo partiti in quel modo ho detto ecco qua ciao ne proprio mo vai sotto antrenno psicologicamente quando cazzo deviarsi per fortuna e questo questa è la chiave di lettura l'Albania ci ha temuti perché ragazzi si sono messi là dietro hanno fatto una linea di difesa a 6 anche quando sono passati in vantaggio io prima dell'inizio della partita pensavo che potesse essere una cosa a nostro svantaggio il fatto che tanti calciatori ci conoscono perché giocano nel campionato italiano tanti che sono partiti titolari invece no proprio perché ci conoscono secondo me hanno giocato così perché l'Albania sa fare molto meglio cioè è una squadra anche dal punto di vista qualitativo che si può permettere di essere più propositiva secondo me ci hanno temuti sono passati in vantaggio ma loro l'hanno impostata così la partita non è che se sono ritrovati in vantaggio e allora perché poi l'abbiamo visto l'abbiamo ribaltata la partita sempre a linea 6 hanno fatto se sono chiusi veramente fino allo fino allo stremo però ci abbiamo avuto la personalità la personalità di ribaltare la situazione e ribadisco ragazzi per come eravamo passati in svantaggio cazzate del genere da campioni d'Europa in carica dice sì sono passati 3 anni che cazzo pretendi cambiano un sacco di cose però sono errori veramente cioè veramente manco in categorie basse se fanno poi glielo faccio passare l'errore perché la partita l'hai ribaltata tutti i compattati dietro ragazzi fraseggi passaggi siamo riusciti ad entrare a fare praticamente quello che volevamo non ho visto il dato statistico a fine partita ma abbiamo giocato praticamente solo noi però non è tutto oro quel che luccica non fraintendetemi perché oggi esaltare l'Italia la possiamo esaltare tra virgolette elogiare o complimentarci con loro per il primo tempo che è stato fatto per la reazione che c'è stata per come hai ribaltato la partita per come gli interpreti ti hanno ribaltato la partita perché Chiesa ha fatto una partita mostruosa frattesi mi è piaciuto tantissimo ragazzi Pellegrini pure ha fatto un grandissimo lavoro a mio modo di vedere e in generale anche Scamacca dice ecco voglio entrare anche un attimo nei meriti della situazione di Scamacca perché qualcuno dice vabbè ma che cambia immobile questo e quello e quell'altro c'è insegna no ragazzi c'è una differenza abissale perché questo comunque gioca molto più per la squadra cioè ogni volta che tiene palla lui là davanti te innesca gli esterni una volta da una parte una volta da un'altra i gol te li propizia anche lui c'è stata una differenza secondo me abissale non me ne voglia immobile tutti quelli che ultimamente negli ultimi anni sono passati là davanti come numero 9 della nazionale italiana ma ad oggi c'è sta a paragone cioè secondo me Scamacca è il titolare punta e basta questo è uno dei punti fermi di questa nazionale hanno giocato tutti bene lo stesso Barella ragazzi si è inventato un gol veramente pazzesco c'è un attimo di vuoto bastoni ragazzi su assist De Pellegrini gran bel gol veramente ci abbiamo creduto siamo stati bravissimi però ribadisco tu devi fare il terzo gol tu devi fare il terzo gol punto e basta non ci stanno storie siamo calati tanto dal punto di vista fisico secondo me ci siamo anche un po' afflosciati perché abbiamo capito che la partita si poteva gestire e questa è l'impressione che ci ho avuto devi essere letale devi essere spietato a momenti di fare rientrare in partita avessi pareggiato sta partita dopo quel primo tempo che avevi fatto e guardando che comunque meritavamo noi di vince sarebbe stato uno psicodramma sarebbe stata una bestemmia se tu oggi pareggiavi con l'Albania non dico che eri fuori ma la prossima c'hai la Spagna un conto è che te la vai ad affrontare guardando quello che hanno fatto oggi la vai ad affrontare con tre punti in saccoccia un conto è che ci vai con solo punto cioè l'inerzia va tutta dalla parte loro se tu pareggi questa e perdica la Spagna stai fuori eh 90% secondo me saremmo così invece diciamo che comunque abbiamo l'atteggiamento mentale anche per aver rotto il ghiaccio in maniera positiva per provare ad essere all'altezza di questa Spagna cioè cambia veramente completamente la situazione l'Albania ragazzi io ribadisco per me non è questa cioè è una squadra che non ha fatto nulla per impezzierirci non ha meritato minimamente non meritava al pareggio anche se ci stava quasi per riuscire Donna Rumma il novantesimo ha fatto qua la parata con la puzza che gli usciva dalle ascelle ragazzi manco carcio d'angolo gli hanno dato perché la puzza delle ascelle non va no ha toccato qua veramente no di qua scusate non va la puzza d'ascelle per la deviata ragazzi e ribadisco a momenti a momenti la pareggiano questa partita quindi cose positive nel primo tempo ma dobbiamo crescere dobbiamo alzare la prestazione e dobbiamo fare quel qualcosa in più perché non ribadisco ancora con tutto il rispetto del caso non so tutte l'Albania che contro di noi giocano così cioè beccherai già nel giro le squadre che saranno molto più propositive anche la Croazia un po' tra esse è quella che abbiamo visto oggi sarà un'altra squadra sarà una squadra che non ci avrà più niente da perdere alla terza partita quindi farà del tutto con la tecnica con la qualità per metterci in difficoltà devi chiudere le partite e devi farlo in una maniera cioè devi essere più dominante dimostri anche all'avversario superiorità li metti sotto dal punto di vista psicologico però poi cioè c'è sempre quell'attimile sbandamento la vostra qua sotto nei commenti sempre Forza Italia buona la prima se beccamo alla prossima con un nuovo video e poi